Attenzione Cavi, il sindaco, il premio, il Franceschino. Vorrei spiegare il senso di questo premio. C'è una lucentola che generalmente è azzurra. Ce l'abbiamo solo noi a Capri, è unica per Bazzina che è un vero amico di Capri perché sta sempre qui, ha fatto film su Capri ed è un vero amico di Capri. In ogni senso ci voleva un simbolo dell'isola da tenere sulla sua scrivania. Grazie Enrico. Non lo sa nessuno, giorni déjà vu che sanno di futuro e portano sorprese appena all'alba di un mattino. Chiedono di me, chiedono chi sono, se sono un poeta, come vivo e come scrivo. Io non cerco troppo, non ho calendario, lo decido io, il mio primo ed il mio poi. Ma vivo nel mio mondo, in bianco e nero, un po' sfocato, ho i cassetti pieni di canzoni mai cantate. Sono fatalista, credo nel destino, prendere o lasciare, io sono così. La parola, parola che ha dovuto prendere la franzona per cantare. Nessuno ha da sapere, ma tutta andrà sentire. Era un mio bello, è sua monotorità, chissà, ma tu non mi asceva. Se si fai scelta, non so vero o male, sono tanto innamorato, cosa dice che tu stai. Ma così, te lo voglio bene, è questo bene, non so scondare. Blah, blah. Passaggio. Il fine di Capri, grande successo qui nella piazzetta di Capri per la tua esibizione, per gli auguri di fine anno. Ma insomma, è stato bello perché è stato un momento di aggregazione, rivedere un sacco di amici qui nell'isola. Poi è una serata scintillante su a casa, con tutti gli ospiti dell'isola, è stata una bella cosa. Ieri sera ho presentato appunto il mio nuovo album, La Chiappe Sogni, che non c'è parola più adatta a un'atmosfera come questa. L'importante è che questo disco faccia la sua strada e questo percorso ovviamente dovrebbe partire da Capri che ci ha ospitato in questi giorni. Ed si è creata una bellissima atmosfera, devo dire, come sempre, Pasquale e la sua organizzazione di Capri Hollywood, eccetera. È stata una serata scoppiettante e quindi mi fa piacere averci partecipato. Cosa ti aspetti da questo 2015? Noi ogni anno speriamo che l'anno che verrà, come dice Dalla, sia migliore. Mai come questo momento abbiamo bisogno di sperare che veramente migliori qualcosa. E che siamo tutti qua a darci una mano, rimbocchiamoci le mani tutte e le maniche. E quindi cerchiamo di partecipare a questo successo che per ora è soltanto virtuale. Speriamo bene.